Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi degli oli essenziali. È da solo una settimana che ho iniziato ad utilizzarli e già sento veramente i benefici. Vorrei parlarvi di come si possono utilizzare sia a scopo di aromaterapia, quindi grazie al diffusore, si possono inserire i gusti e i profumi che più ci piacciono. La lavanda è molto rilassante, quindi va bene se siete stanchi e stressati e acconcilia anche il sonno. Un altro profumo che io adoro è il Purification, che dà un aroma meraviglioso al vostro ambiente e soprattutto purifica l'aria, proprio allontana le zanzare, gli insetti, è veramente eccezionale. Mentre per chi ama fare yoga o meditazione, o anche in un momento più di riconnessione, preghiera, più una cosa spirituale, è veramente eccezionale l'incenso, buonissimo e molto molto delicato. Un altro metodo per poter utilizzare gli oli che ho provato in questi sette giorni, veramente sto un pochino sperimentando tutto, sono il limone e l'arancia, che posso mettere in un bicchiere d'acqua, che è molto gustoso, è più piacevole bere l'acqua e anche un effetto detox. Mentre per le giornate più calde consiglio di mettere una goccia di menta, pepermint, che è freschissima. La pepermint funziona anche molto bene per quando si ha mal di testa, mentre per quando si hanno i dolori muscolari c'è un olio Pen Away, che proprio scaccia via tutti i dolori. C'è anche questo, il stress away, quando magari ci sono situazioni un po' più stressanti, lo potete mettere sul collo, sulle mani, profumarlo, odorarlo, e già vi dà una sensazione di veramente di relax e faccia interiore. Ce ne sono tanti altri, in questo kit che ho appena preso sette giorni fa, piano piano sto iniziando a conoscerli e imparare come funzionano. Alle 4 oggi farò un live con Irina, la mia aroma coach, che oltre a essere esperta in aromaterapia, è anche bravissima in aromacucina. Infatti la domenica scorsa abbiamo organizzato insieme un wellness aroma retreat e ha preparato un buffet con delle cose deliziose, veramente. Quindi io vi aspetto alle 4 per parlare di aromaterapia, come usufruire gli oli nella vostra routine quotidiana. Quindi vi aspetto, un bacione grande!